Ciao a tutti, oggi presentiamo un libro di Giovanni Vignali, giornalista scrittore che è L'uomo nero e le stragi dall'ecidio di Bologna alla trattativa con la mafia, il mistero del neofascista Paolo Bellini, appena uscito per Paper First che è l'editore legato a un quotidiano che è il fatto quotidiano, è un volume che trovate nelle librerie e credo che stia uscendo dall'edicole proprio in questi giorni, quindi se dovete ordinarlo online oppure librerie e con noi anche Saverio Ferrari che è responsabile dell'osservatorio democratico sulle nuove destre che sono tantissimi anni, che fornisce analisi, informazioni, articoli su giornali, riviste, sui social media, insomma su tutto quello che si muove nel campo della destra politica e anche in quella eversiva. Il libro che adesso cominceremo a illustrare parla, è incentrato su una figura che è quella di Paolo Bellini ma che riporta una notizia su cosa sta succedendo in questo paese non molto nota perché da quei fatti sono passati 40 anni, stanno uscendo delle novità che sono sotto processo. Vi leggo dal capitolo 1, la strage 40 anni dopo, che cosa sta accadendo. Il 19 maggio 2020 la Procura Generale di Bologna decide che quasi tre anni di indagini nel più assoluto riservo, i riscontri, le testimonianze, gli atti acquisiti possono bastare e chiede ufficialmente il rinvio a giudizio di quattro persone per la strage alla stazione di Bologna, altre quattro con ruoli rilevantissimi nel lavoro condotto dai magistrati, dagli uomini della Guardia di Finanza, della Digos e del Ross dei Carabinieri, non andranno a dibattimento perché sono nel frattempo decedute. Il provvedimento è firmato dall'Avvocato Generale Alberto Candi, dai sostituti Umberto Palma e Nicola Proto, dal Procutoratore Generale Ignazio De Francisci. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Indagati è Paolo Bellini, capo A, perché agendo in qualità di esecutore, in concorso con Licio Gelli e Umberto Ortolani, deceduti in qualità di mandanti e finanziatori, in concorso con Federico Umberto D'Amato, ricordo Ufficio Affari Riservati, 1969, strage di Piazza Fontana, e Mario Tedeschi, deceduti in qualità il primo dimandante e organizzatore. Il secondo, il Tedeschi, quale organizzatore per aver coadiuvato il D'Amato nella gestione mediatica dell'evento strage preparatoria e successiva allo stessa, nonché nell'attività di depistaggio delle indagini. In più Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini in qualità di esecutori già condannati, Gilberto Giorgio Cavallini in qualità di esecutore già condannati e con altre persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commettevano un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertando, deliberando, organizzando e predisponendo per l'esecuzione, in porto alla collocazione di un ordine esplosivo nella sale d'attesa della seconda classe della stazione di Bologna, con il voluto fine di uccidere, tenuto conto della potenzialità dell'ordineo e dell'ora dello scoppio, un sabato di agosto in un imponente scalo ferroviario nazionale, un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone e ferimento di oltre 150 persone. Quanto accaduto a Bologna, e chiudo nella descrizione di quello che sta succedendo, quanto accaduto a Bologna il 2 agosto 1980 è stata una strage politica, o più esattamente una strage di Stato, e quanto mettono nero su bianco i giudici della Corte d'Assise presieduta da Michele Leoni, che hanno condannato in primo grado all'ergastolo il quarto uomo, Gilberto Cavallini. Le motivazioni della sentenza, ben oltre le 2000 pagine, sono ricche di dettagli, spunti e riferimenti a procedimenti già celebrati nel capoluogo felsineo e non solo, e 7 gennaio 2021, l'altro ieri, quando vengono depositate. Quindi sta succedendo questo, purtroppo questi avvenimenti riguardano una strage di 40 anni fa, all'epoca queste notizie sarebbero state una bomba politica, oggi al di fuori della cerchia ristretta degli effetti delle vittime, delle loro famiglie, è una cosa che importa ormai a quasi, a pochissimi, a quasi nessuno, non voglio dire, ma non c'è riscontro se non sul fatto quotidiano, su alcuni giornali, non c'è molto riscontro su questi fatti. Ma veniamo al libro e alla biografia di Paolo Bellini. A Giovanni Vignali, che ha scritto questo volume e che sta seguendo da molti anni, credo, la vicenda di questo personaggio, se tu dovessi descrivere a noi italiani medi che di Paolo Bellini sappiamo poco o nulla, chi era questo personaggio e cosa ha fatto nella sua lunga carriera, che cosa diresti di lui? Buonasera a tutti, intanto grazie Angelo, grazie Saverio Ferrari per questa opportunità. Chi è, non chi era, chi è Paolo Bellini perché il 16 di aprile si aprirà questo nuovo processo, questo ulteriore processo per la strage alla stazione di Bologna e Bellini sarà il principale imputato di questo processo. Come hai detto tu, viene accusato di essere uno degli esecutori di quella strage, lui si difenderà, lo ha già preannunciato durante l'udienza preliminare, si proclama innocente, contesta alcune delle prove portate dalla Procura Generale e quindi si assisterà immagino in aula a un contraddittorio anche molto rovente. Chi è Paolo Bellini è difficile a dirsi perché è un personaggio che è entrato e uscito da moltissimi capitoli della storia italiana, i più ambigui, i più controversi. Provo a sintetizzare, poi se ci sono interessi particolari o curiosità posso rispondere anche ad ulteriori domande. Nel 1975 Paolo Bellini uccide il militante di lotta continua Alceste Campanile. Lo fa per conto di avanguardia nazionale, una formazione di estrema destra e lo fa, lo dice lui sotto interrogatorio, per bruciare una generazione, una generazione di giovani di sinistra di cui Alceste era un esponente molto noto, molto conosciuto. L'anno successivo Bellini scappa, scappa dall'Italia, si rifugia prima in Spagna con la rete di protezione di avanguardia nazionale e poi in Sud America. Sono gli anni in cui in Sud America c'è attivo il piano Condor. Il piano Condor è un piano che vede le dittature sudamericane e i relativi servizi di sicurezza alleati e in Sud America riparano tantissimi estremisti di destra italiani, ma non solo, tra gli altri anche delle chiaie. In Sud America Bellini fa una cosa particolarissima, cambia identità, si fa un nuovo nome, fra virgolette se vogliamo dirla così si fa anche un nuovo volto perché fa un paio di plastiche facciali e poi rientra in Italia, rientra in Italia, si muove attorno a Bologna nella città negli anni che precedono e che seguono la strage e viene arrestato nel 1981 come ladro di opere d'arte, di mobili, ma viene arrestato sotto falso nome e rimane per un anno ancora sotto falso nome nelle patrie galere, viene spostato molto velocemente nelle varie carceri e non si riesce a verificare che sia questo brasiliano perché si chiama in quel momento Roberto da Silva. Sono sparite le sue impronte digitali dal distretto militare di Modena dove aveva fatto la visita di leva. Quando finalmente si scopre che Roberto da Silva è in realtà Paolo Bellini vengono fuori una serie di vicende a dir poco clamorose. La prima di queste è che in quegli anni sotto falso nome Paolo Bellini frequenta il procuratore capo di Bologna, Ugo Sisti e addirittura Ugo Sisti a 24 ore della strage, fa perdere le sue tracce, se ne va da Bologna, non dice dove va alla scorta e alla questura e viene trovato nel corso di una perquisizione quasi casuale a casa nell'albergo del padre di Paolo Bellini. Quindi il procuratore capo di Bologna che in quel momento indagava sulla strage stava a casa del padre di un estremista di destra che si muoveva in Italia sotto falso nome e con il quale lo stesso Sisti volava perché sono accertati diversi voli tra questo Roberto da Silva e il procuratore capo di Bologna. Bellini viene una prima volta indagato per la strage, è un procedimento che dura nove anni e si conclude però con un suo pieno proscioglimento, conclude nel 92, viene indagato nel 1983. I successivi capitoli sono non meno romanzeschi se vogliamo dirla così. Nel 92-93 Bellini si muove in Sicilia negli stessi mesi in cui lo Stato e la mafia dialogano e lui stesso attraverso il nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri allaccia un dialogo con un boss mafioso potentissimo Nino Gioè trattando uno scambio, recupero di opere d'arte rubate da parte della mafia che avrebbe dovuto restituirle allo Stato e benefici carcerari per cinque super boss mafiosi. Per capire il livello dell'interlocuzione che Bellini tiene non c'è soltanto Nino Gioè, ad ascoltare questi dialoghi ma c'è addirittura Giovanni Brusca che si nasconde però origlia quello che dice Bellini e lo va a riferire a Totorina. Questo scambio non va a buon fine, Bellini viene considerato dai Ross figura che non può portare avanti un'interlocuzione del genere, una vera e propria trattativa bis si potrebbe chiamare, Bellini però un anno dopo nel momento in cui Gioè si suicida in carcere e lo chiama in causa con una lettera dicendo che era un infiltrato dello Stato nella mafia, dice questo Gioè sostanzialmente, Bellini collabora con la direzione nazionale antimafia con Pierluigi Vigna che nelle sue memorie nel suo libro di Bellini non sapremo mai la verità e fornisce però alla direzione nazionale antimafia molte informazioni e quindi collabora fattivamente con lo Stato. Resta da dire che nel 1993, un anno dopo le morti di Falcone Borsellino, la mafia trae, come dice la sentenza, lo spunto di questi dialoghi tra un mafioso e Bellini e comincia a colpire il patrimonio artistico del paese, colpisce Milano, colpisce Firenze e colpisce Roma, chiese, musei e monumenti. Bellini però per questa vicenda pur essendo stato sospettato che poter essere uno dei suggeritori della strategia è stato anche qui prosciolto e ripeto il suo ruolo in questa vicenda è quello di collaboratore di giustizia con Vigna. Chiudo, ho cercato di sintetizzare al massimo, mi rendo conto che sembra una vicenda, una spy story, sembra una vicenda non reale, ma purtroppo sono tremendamente reali le cose che sono accadute in Italia e purtroppo con riferimento particolare a Bologna, le vittime oggi ben rappresentate dall'associazione Familiari che sta facendo una grande campagna, una grande battaglia. L'ultima vicenda nella quale Bellini viene a trovarsi è un arresto rocambolesco a Reggio Emilia nel 99 al termine del quale lui ammette più di dieci omicidi, si autoqualifica come killer dell'andrangheta e diventa pentito. Oggi a distanza di 21 anni, 22, la procura di Bologna lo porta a processo dicendo che sarebbe il quinto uomo della strage, sarebbe colui quale assieme a Mambro, Fioravanti, Ciavardini e condannato solo in primo grado. Cavallini avrebbe eseguito il peggior attentato della storia recente d'Italia. E senti tra l'altro su questo, a pagina 27 del tuo libro, a proposito dell'associazione, si dice che l'associazione Familiari delle Vittime, un avvocato di questa associazione, Andrea Speranzoni, scopre un filmino che colloca, perché poi è da qui che parte, credo, una parte delle convinzioni dei magistrati di questo nuovo processo, che colloca Paolo Bellini in stazione a Bologna la mattina dell'esplosione. Vuoi raccontare la storia di questo filmato? Sì, c'è un filmato che un turista quella mattina fa negli attimi immediatamente precedenti la strage e successivi. Questo filmato viene inviato da questo turista che dopo la strage ha, come dire, un momento di sconforto e fornisce questo materiale che resta per molti anni negli archivi. Il legale dei familiari delle vittime, studiando tutto il materiale attorno alla strage di Bologna, ma non solo attorno alla strage di Bologna, lo voglio dire perché è stato fatto un grandissimo lavoro da parte della Procura con la digitalizzazione degli atti attorno a tante altre stragi, sicuramente Piazza della Loggia, sicuramente Piazza Fontana. Dicevo però, il legale trova questo filmato in cui si vede un giovane riccio con i baffi che si muove a pochi minuti dall'esplosione sui binari e questo giovane ha una somiglianza impressionante con Bellini. La Procura Generale parte da questo filmato, intercetta la moglie, la interroga e la moglie dopo alcune titubanze iniziali viene ascoltata a dire sì in effetti è lui e quindi si sgretola un po' quell'alibi familiare attorno al quale Bellini aveva costruito il proprio proscioglimento nella prima indagine sulla strage alla stazione di Bologna. Ci sono altri elementi in questa inchiesta che verranno credo squadernati in aula, ad esempio sui fondi che Licio Gelli avrebbe fatto avere a una galassia di estremisti di destra e anche direi un assunto che se dovesse essere provato in aula sarebbe clamoroso e cioè la Procura Generale di Bologna riconsidera la strage sostenendo che le varie sigle dell'estremismo nero italiano di quegli anni non si muovevano separatamente in modo disomogeneo ma erano in una sorta di patto fra di loro e a finanziarle sarebbe stato Licio Gelli con almeno 5 milioni di euro provenienti dal Banco Ambrosiano. Quindi questi sono alcuni degli elementi, ce ne sono ovviamente anche altri, alcuni degli elementi che stanno emergendo nella riapertura dell'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna. Bellina apparteneva a un'organizzazione negli anni 70, nota all'epoca, tristemente nota, a cui il cui capo era sostanzialmente Stefano Delle Chiaie, di cui è stato trovato recentemente un archivio che vedremo se contiene cose interessanti o meno e poi ci sono, quali sono le cose da sottolineare di questo processo secondo te, questo nuovo processo di tutte le vicende legate? Beh allora intanto le verifiche fatte su questi bonifici e su questi soldi che arrivavano un po' agli organizzatori, un po' agli esecutori, un po' ai dettistatori e quindi anche se ovviamente non si processano i defunti, questo è evidente, però questi milioni di euro che transitavano Sud America ancora una volta, la Svizzera e che sarebbero andati, bisogna usare il condizionale perché allo stato attuale delle conoscenze di provato non c'è nulla, però che sarebbero andati a elementi della destra estrema italiana appartenenti a formazioni diverse, si parla ovviamente di avanguardia nazionale, si parla di terza posizione, si parla dei NAR, è un fatto nuovo in assoluto, ma nella perizia, nel documento depositato dalla Procura Generale ci sono vari riferimenti sia a Piazza Fontana sia alla strage di Brescia, Piazza della Loggia, quindi c'è un contesto che viene riletto, Paolo Bolognesi, il Presidente dei Familiari delle Vittime dice che effettivamente questa digitalizzazione degli atti ha permesso di creare dei link, delle connessioni tra i vari procedimenti penali dell'epoca e i contesti e le testimonianze che andavano a comporsi e quindi le novità sono molte, ci sono altre piste, altri spunti investigativi, uno di questi riguarda Sergio Picciafuoco che era sicuramente in stazione a Bologna il 2 agosto ma è stato assolto da tutte le accuse che però compare misteriosamente a Reggio Emilia e ha un incontro tuttora inspiegabile per molti aspetti con Paolo Bellini, i giudici che hanno giudicato Cavallini nelle motivazioni della sentenza parlano di questo episodio come di una possibile, la chiamano camera di consiglio fra i due nel momento in cui le indagini sulla strage sono a un punto importante e quindi credo che si stia aprendo uno scenario che avrebbe del clamoroso se fortificato da una sentenza di condanna ma ripeto dobbiamo assolutamente essere garantisti e quindi in questo momento ci sono degli imputati che si proclamano innocenti e dobbiamo attendere il lavoro dei magistrati ma certo è che il quadro, lo scenario di quella strage è un quadro che risulta molto nuovo oggi dopo che abbiamo letto l'atto di accusa della Procura Generale e poi vedremo quanto potrà ulteriormente arricchirsi di spunti diversi, di spunti inediti durante il dibattimento. Saverio Ferrari, tra l'altro tu hai scritto recentemente anche degli articoli sul giornale quotidiano, il manifesto proprio su questo processo, su tutte quelle vicende. Che cosa sottolineeresti di tutta questa, di questo processo a quarant'anni di distanze? Innanzitutto io credo rispetto al lavoro che ha fatto Giovanni Vignali l'utilità di un aspetto che ci porta anche alla strage di Bologna e cioè che attraverso la figura di questo Paolo Bellini noi possiamo comprendere meglio la natura di alcune organizzazioni terroristiche fin dagli anni Sessanta e questo è il caso di Avanguardia Nazionale a cui Paolo Bellini apparteneva ma anche ad altre quelle che sono state attive negli anni Settanta e Ottanta come appunto i NAR che vengono indicati nei processi che si sono svolti come gli autori della strage di Bologna. Peraltro, e lo sottolineava Vignali, nelle indagini della Procura Generale di Bologna si parla apertamente della presenza alla stazione e quindi della responsabilità nella strage non solo appunto dei NAR ma anche di esponenti che hanno appartenuto ad Avanguardia Nazionale e militanti di terza posizione che all'epoca era un'organizzazione come dire in attività perché nasce nella seconda metà degli anni Settanta, vorrei ricordare fondata da Roberto Fiore e Piccia Fuoco che è stato citato gravitava nell'orbita di terza posizione. Beh, due cose su Avanguardia Nazionale e sui NAR quindi vanno dette perché Avanguardia Nazionale è stata un'organizzazione nata addirittura alla fine degli anni Cinquanta, nel Cinquantasette sono come dire i semi che poi portano alla fondazione vera e propria nel 1960 di Avanguardia Nazionale e questa organizzazione in realtà è uno strumento in mano all'ufficio affari riservati perché è uno strumento che viene utilizzato a più riprese e a piene mani per fare già nei primi anni Sessanta non solo intimidazioni nei confronti delle sinistre ma proprio vere e proprie provocazioni. Ce ne sono alcune che sono passate alla storia, 1963 quando viene a Roma Cionbe che era stato uno degli assassini di Patrice Lumumba e ci sono manifestazioni da parte della sinistra, vi è una provocazione fatta dagli uomini di Avanguardia Nazionale che scatenano incidenti che vengono addebitati alle sinistre ma c'è anche uno sciopero degli Edili che viene disturbato da un intervento ancora una volta di squadrette di Avanguardia Nazionale che provocano incidenti. Avanguardia Nazionale partecipa al famoso convegno all'hotel Parco dei Principi e credo che nella distribuzione dei compiti si assume anche il ruolo della provocazione appunto attraverso le infiltrazioni a sinistra perché poi tutto quel lavoro di cui poi Merlino diventerà un po' l'emblema è un lavoro di infiltrazione che viene fatta da questa organizzazione sotto la regia dell'ufficio affari riservati. È un'organizzazione che dura nel tempo perché quando poi viene sciolta, perché viene sciolta nel 1976, voglio sottolineare quinto governo Moro, ministro degli interni Francesco Cossiga e cioè viene sciolta dopo il primo grado di giudizio senza attendere né l'appello né la Cassazione come è accaduto per ordine nuovo, peraltro le sentenze su Avanguardia Nazionale d'Appello e di Cassazione confermeranno il giudizio di primo grado, viene sciolta non da come dire estremisti di sinistra momentaneamente al governo ma da figure come Aldo Moro e Francesco Cossiga. Quando viene sciolta questa organizzazione non è che termina e finisce, i suoi aderenti e i suoi dirigenti finiscono a fare il killer prima dei franchisti e poi in Cile fiancheggiando la Dina che era il servizio segreto che si occupava degli oppositori di Pinochet in giro per il mondo a fare i killer al servizio di Pinochet. Il ferimento che avviene a Roma nel 75 del fondatore della democrazia cristiana cilena Bernardo Leighton e di sua moglie è addebitabile ad Avanguardia Nazionale come poi è stato appurato anche attraverso le indagini da parte della magistratura. Quindi un'organizzazione che ha un ruolo importante nella strategia dell'attenzione, ce lo ha dentro alla strage di Piazza Fontana, sono quelli che fanno gli attentati all'altare della patria e presso la banca del lavoro di Roma in contemporanea allo scopio della piazza Fontana e a dire che erano loro sono alcuni di Avanguardia Nazionale che lo dichiareranno apertamente nei processi ai magistrati di cui c'è ancora oggi ampio riscontro. Quindi Bellini ha appartenuto a un'organizzazione che aveva questo tipo di profilo dentro a progetti eversivi di grande portata, pensiamo alla rivolta di Reggio Calabria, pensiamo al golpe borghese, quindi grazie anche alle indagini ultime della Procura Generale di Bologna noi possiamo anche fare un po' più di luce o avere conferme meglio sulla natura di alcuni strumenti che qualcuno ha ritenuto secondo me sbagliando che fossero organizzazioni autonome che si muovessero comunque in un ambito non compromesso da condizionamenti che invece ci sono stati molto molto forti da parte degli apparati statali. La seconda organizzazione di cui dovremmo brevemente parlare sono i NAR perché dei NAR si è data una visione nel corso degli anni un po' romantica di ragazzotti spontaneisti che si muovevano come antagonisti di destra tentando un'improbabile rivoluzione ma in realtà le cose non stanno così e ce lo dicono proprio le indagini di Bologna, non era un gruppo spontaneista, era un gruppo innanzitutto legato alle vecchie organizzazioni stragiste. Già nel processo a Gilberto Gavallini è venuto fuori questo rapporto molto stretto anche con figure apicali di ordine nuovo, pensiamo a Massimiliano Facchini ma pensiamo a Carlo Maria Maggi, ci sono anche riscontri di bigliettini scambiati tra i NAR e i Marci, una realtà legata ad ambienti mafiosi perché la vicenda che sta tornando fuori del delitto a Pier Santi Mattarella 6 gennaio del 1980 ci parla di uno scambio fatto con il nucleo principale dei NAR che è quello di Fioravanti con la mafia e cioè un piacere fatto alla mafia assassinando Pier Santi Mattarella in cambio di un aiuto a far evadere dal carcere Pierluigi Concutelli che era una delle figure come dire simboliche importantissime delle versioni di destra ma il rapporto con la banda della Magliana, il rapporto con la P2 e cioè i NAR sono stati uno strumento al servizio di più padroni coperti dagli apparati perché come è venuto fuori anche questa storia delle palazzine di via Gradoli dove peraltro è imputato questo Domenico Catracchia che lavorava SISDE e gestiva gli appartamenti in quella palazzina si scopre che lì era stata affittata un appartamento a Mario Moretti al tempo del rapimento Boro per quel che riguarda le Brigate Rosse e vi erano addirittura due covi dei NAR in tempi leggermente successivi 1981 tranquillamente in una serie di appartamenti in un complesso di palazzine che erano gestite dai servizi segreti ma i rapporti di protezione dei servizi segreti rispetto ai NAR si potrebbe semplicemente fare una lunghissima trasmissione da questo punto di vista una giornata intera dico solo una cosa da questo punto di vista nel processo a Gilberto Cavallini sono i tesserini dei carabinieri dati ai NAR forniti da un aderente della P2 ufficiale dei carabinieri ma soprattutto è emerso il fatto che Gilberto Cavallini aveva la disponibilità di alcune utenze telefoniche riservatissime dell'ufficio Nato presso la SIP di Milano utenze che sono state confermate dai tecnici perché non erano numeri a casaccio che poteva magari per un fatto di casualità corrispondere a dei numeri riservati erano due tre numeri riservati nella disponibilità di Gilberto Cavallini che ci porta a un rapporto diretto dentro alle parti più segrete degli apparati dei servizi segreti. Rispetto alla strage di Bologna in parte ha già detto delle cose molto bene lineali c'è una regia rispetto alla strage di Bologna c'è un intervento della P2 un'iniziativa che è dentro però un disegno non è semplicemente un fatto a sé stante questa vicenda stragista è il tentativo di ridisegnare in modo autoritario e ridefinire gli equilibri di questo paese. Siamo alla fine della stagione come dire segnata dalla possibilità del compromesso storico. La P2 che è un gruppo oltransista legato all'atlantismo più anticomunista opera e interviene e la strage di Bologna è uno dei passaggi che si compiano sotto la sua regia e finanzia l'intera operazione. Quando si parla di milioni di dollari non è perché i milioni di dollari vengono dati a Fioravanti, alla Mambro e a Cavardini è perché si fa un'operazione importante per fare quello che poi è successo e cioè favorire tutti i depistaggi possibili portando i magistrati a occuparsi di piste inesistenti attraverso un complesso di condizionamento anche mediatico che viene sostenuto. Si parla di milioni di dollari di cui 5 milioni di un conto particolare presente a Ginevra da cui escono i soldi e in un caso di generale di Bologna un milione dati direttamente poco prima della strage direttamente ai terroristi che poi saranno coinvolti. C'è questa possibile dimostrazione dentro al dibattimento che inchioderebbe definitivamente non solo nuovamente avanti ma lo inchioderebbe al fatto di essere come dire una pedina dentro a un gioco più importante di quello che lui ha cercato di raccontare che è legato direttamente alla P2 e quindi a una compromissione con dei poteri molto forti. Ovviamente dentro a questa ricostruzione che fa la Procura Generale ci sono tutti i depistaggi ulteriori che avvengono durante le indagini e cioè questo famoso documento Bologna e cioè quando vengono trasmesse le carte dalla Svizzera all'Italia nel 1986 c'è il documento Bologna con i conteggi delle uscite da questo conto corrente. Qualche manina ha separato le cose per separare i conti dalla strage di Bologna per cui il documento Bologna è rimasto per molto tempo come dire non conosciuto inesistente ma i conti come dire si dovevano collegare a questa storia e a questa situazione. Vorrei ricordare una cosa che riguarda Milano e che cioè dentro al complesso di questa operazione che viene fatta c'è anche l'operazione di un'altra strage che per fortuna va a vuoto 48 ore prima della strage di Bologna a Milano siamo il 30 luglio del 1980 viene messa un'automobile un'autobomba con un altissimo ordigno esplosivo diviso in due pani che doveva fare una di consiglieri comunali al varo della giunta di sinistra di Milano che avrebbe preceduto la strage di Bologna. La cosa non si realizza per la scansione diversa dei tempi da come l'avevano prevista gli attentatori e per un fatto assolutamente unico eccezionale dal punto di vista esplosivistico perché esplode solo una parte dell'ordigno un'altra parte viene proiettata lontano però come qualcuno ricorderà si ritrovarono pezzi di quell'autovettura sui tetti degli stabili circostanti e si è riusciti anche qui senza pura arrivare a delle condanne a ricostruire il percorso di quell'ordigno il percorso come dire dell'area da cui veniva questo 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 fatto. Cinque settimane prima della strage di Bologna qualcuno dovrebbe sottolinearlo il 23 giugno del 1980 viene assassinato non a caso a Roma il giudice Mario Amato da parte dei NAR quello che indagava e che dava fastidio e che cominciava ad essere un problema rispetto alla possibile continua attività da parte di questa di questa organizzazione terroristica. Un'ultima battuta sui depistaggi. I depistaggi non sono finiti sono usciti ancora dei libri recentemente fatti da giornalisti non di destra che ancora una volta sostengono delle tesi che portano lontano rispetto alla strage di Bologna sono usciti degli articoli recentemente addirittura uno che credo che debba essere come dire sottolineato con preoccupazione dall'Espresso nel dicembre scorso che porta ancora una pista libica una fantomatica pista libica rispetto alla strage di Bologna. Il problema è che quando la verità dà fastidio si cerca di buttarla sui misteri e sulle cose come dire che rimangono avvolte in un alone di indeterminatezza che porta o porterebbe chissà dove. Quindi il processo che si aprirà il 16 aprile a Bologna è importante perché dentro a quello è possibile, certo qualcuno potrà dire la storia non si fa nelle aule di giustizia ma è possibile io credo ancorare una parte della nostra storia anche a questa vicenda giudiziaria, a questa vicenda processuale. Grazie Saverio. Senti Giovanni, in uno credo uno o due capitoli del libro tu racconti molto bene tra l'altro tutta la vicenda dell'assunzione di responsabilità di Bellini rispetto all'omicidio di Alceste Campanile. Ti chiedo di riassumere insomma un po' che cosa è successo, il perché poi lui pur essendo reo confesso non è stato, cioè non ha fatto nessun tipo di pena e di detenzione per quell'omicidio e poi chiudiamo con la lettura di una lettera della mamma Lucrezia, la mamma di Alceste Campanile è scritta nel 2005 agli amici e compagni di Alceste Campanile a chiusura di una vicenda che è durata tantissimi anni in cui non sapevano che cosa era successo al loro figlio, ringrazio a chi nel corso di tutti quegli anni poi è stata vicina alla memoria di quel ragazzo lì. Vai Giovanni. Sì sì, la vicenda di Alceste Campanile è un grande ecco in tutta Italia perché si spese in persona Adriano Soffri dopo il leader nazionale di lotta continua dopo quell'uccisione. Alceste Campanile viene ucciso a Reggio Emilia pochi giorni dalle elezioni. Dalle elezioni, le elezioni del 76. Sì sì, torniamo indietro. 75, no scusa. 75. Passano 24 anni fra l'uccisione di Alceste e la confessione di Bellini che arriva nel 99, nel 1999 e in cui non c'è un colpevole per l'uccisione di Alceste. Ci sono state molte piste, ci sono stati molti processi, ci sono state anche molte firme importanti del giornalismo nazionale, penso a Corrado Auges fra gli altri che hanno seguito quella vicenda. Bellini è arrestato nel 99, una delle prime cose che dice nel momento in cui dice sì sono io che ho ucciso una serie di persone di origini calabresi residenti al nord, a Reggio Emilia in Emilia Romagna ma anche in Lombardia, dice però il primo omicidio che ho fatto è Alceste Campanile. E c'è uno sconcerto totale perché di tutti, come dire, di tutte le piste seguite quella di Bellini non era mai emersa. Ci sono stati da quel momento in poi una serie di interrogatori sulla ricostruzione di come andarono le cose e Bellini racconta quell'omicidio come un omicidio che è maturato dentro la colonna di avanguardia nazionale che da Massa Carrara passava per Parma e arrivava a Reggio Emilia. Chiama in causa diverse persone Alceste Campanile, scusa Paolo Bellini per l'omicidio di Alceste Campanile, sia di Massa Carrara, sia di Parma, sia di Reggio, ma tu capisci bene che dopo 24, 25, 30 anni è un processo difficile. I magistrati non trovano elementi sui presunti complici di Bellini e quindi la loro posizione viene stalciata, sono completamente prosciolti. Regge il resoconto di Bellini su come andarono le cose quella notte. E regge per una serie di dettagli, come dire, balistici su come morì Alceste, sul ritrovamento di un bossolo che sembrava sparito e che Bellini dice in realtà si incastrò nel paraurti della mia auto. E quindi Bellini è molto preciso nel raccontare, come dire, la dinamica dell'uccisione. Poi per la verità, io devo anche dire quello che ho scritto, lascia comunque dei dubbi invece il complesso del racconto di Bellini perché, come dire, si fa fatica a credere che Bellini trovi una sera per caso Alceste Campanile che sta facendo l'autostop per andare in una discoteca reggiana dell'Emilia Romagna, lo carichi in auto, lui dice lo tenga sotto la minaccia della pistola per 20 chilometri, più o meno passano 20 chilometri fra Reggio Emilia questa discoteca e le zone lì vicino dove poi verrà ritrovato il corpo di Alceste e nell'autopsia di Alceste non ci sia nessun segno di adrenalina, nessun segno di spavento o di lotta o di ribellione a quello che sembrava a quel punto, dovendosi riferire al racconto di Bellini, un momento drammatico, veramente grave e pesante. Bellini viene riconosciuto come responsabile dell'uccisione di Alceste ma fra gli anni che sono trascorsi e il riconoscimento delle attenuanti generiche, è pentito nel momento in cui parla di Alceste e sta collaborando con lo Stato, è responsabile di questa uccisione ma non sconta neanche un giorno di prigione per questo. Alcuni l'hanno chiamata una sentenza in punta di diritto, è rimasta moltissima amarezza negli amici di Alceste, nei ragazzi che all'epoca militavano in lotta continua, ma quelli che Bellini racconta noi volevamo bruciare come generazione, però questo è stato e questo procedimento è concluso e quindi così sono andate le cose. E tu nel libro riporti questo saluto finale di questa vicenda che la mamma di Alceste Campanile, Lucrezia, scrive su un giornale credo di Reggio Emilia il 12 giugno 2005. A voi che avete voluto ricordare Alceste in modo così bello, io devo tanta gratitudine. Tra quelle vostre bellissime pagine, era uscito scrivi nel tuo volume un sito internet di foto e ricordi su Alceste, tra quelle vostre bellissime pagine che ho letto con tanta commozione mi sono persa, sopraffatta da una dolorosa tenerezza, da un profondo senso di gratitudine, di rimpianto misto a consolazione. Ho ritrovato in quei momenti quel mio figlio di letto, quel ragazzo allegro e immaturo, anche ingenuo, ma tanto generoso. Ho rivissuto quegli anni così tormentati in cui Alceste stava crescendo insieme a voi e credeva in quello che faceva, fiducioso, quasi incosciente. Ricordo parecchi di voi che ho conosciuto e mi si sono stretti intorno nei momenti più terribili, tra tanto dolore e tanta rabbia. È un grande conforto adesso constatare che tutti voi avete conservato l'affetto e l'amicizia per Alceste, sì da creare questo sito per lui, è un dono insolito e bellissimo per ricordarlo, perché non venga dimenticato, perché anche chi non l'ha conosciuto possa conservarne la memoria, perché nulla venga dimenticato. Grazie carissimi, vi stringo in un caldo abbraccio. Che un po' ho voluto chiudere con questa citazione, perché è un po' come, insomma, un saluto a tutti quei giovani che in quel periodo, e non solo, dicevano quelle cose che 40 anni dopo cominciano a fermare anche i magistrati di questa Repubblica e di questo Stato, e cioè che quelle stragi erano stragi di mano fascista con regia anche da parte purtroppo di apparati dello Stato italiano con coperture, depistaggi e quanto di peggio possa essere avvenuto. Grazie Giovanni per il tuo libro che ho letto molto volentieri. Grazie a Saverio, sempre preciso e indispensabile in queste ricostruzioni. Ricordo a tutti che dopo questa proiezione su Facebook il video sarà sul canale YouTube Ampini Guarda. Grazie a tutti.